Salve a tutti, vediamo come catturare la tarantola su Animal Crossing New Horizons. Ogni tanto, mentre girovagate per l'isola, potreste trovare questi ragni. State molto attenti perché se vi avvicinate troppo, vi saltano addosso e poi vi risvegliate a casa. Vediamo quindi come fare per catturare. Allora, il trucco è quello di avvicinarsi lentamente e tenendo premuto il pulsante A, quello per catturare con il retino, per poi lasciarlo quando siamo sufficientemente vicini. Guardate in questo modo. La tarantola ci punterà, noi dobbiamo stare molto attenti, andare piano, piano, fino a che non arriviamo a portata. Ecco qua, vedete? Molto lentamente, come in questo video. Quindi con calma e pazienza e ci siamo. Adesso posso lasciare il retino. Ed eccolo qua, tarantola catturata. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.